If these damned more here want blood, they shall have it. But I will probably do it later on when I'm talking about what I'm seeing in front of the screen. So it may be that you will see some things that will happen before, some things that will happen after, based on what I will tell you in the moment I'm recording. Allora si inizia, il videogioco si presenta sempre come GDR, ad un determinato punto accade che c'è un forte da conquistare o qualcosa di simile. Allora che cosa succede? Gli eroi si recano ad un centro cittadino, a un centro che può essere come base operativa, dopodiché ha una determinata forza lavoro da utilizzare nell'area controllata appunto da quel centro. Il numero della popolazione praticamente controllata da quel centro dipende dalla grandezza del centro stesso. Quindi sarà a nostra disposizione insomma poter effettuare determinati upgrade per aumentare la popolazione disponibile. Come potete vedere la mappa di gioco è divisa in aree. Quando ci sposteremo con i nostri eroi ad un accampamento che può essere costruito o conquistato nel momento in cui ci saranno dei nemici, noi potremo appunto costruire il nuovo centro, poi effettuare l'upgrade sempre per espanderlo appunto, ed avere quindi una forza lavoro da utilizzare in quella zona. Questo che cosa significa? Che più terreno controlleremo e più sarà la nostra forza lavoro disponibile. Come potete vedere proprio le singole strutture avranno degli slot disponibili assegnabili ai vari cittadini, appunto ai vari lavoratori e non potremo superare il determinato numero di persone che abbiamo a disposizione per quell'accampamento, per quella sezione di terreno. Questo che cosa comporta? Che serve anche una certa dose di strategia, di tattica, a veicolare i vari cittadini, appunto ai vari lavoratori, in maniera tale da massimizzare i profitti che a noi servono in quel determinato frangente. Ci sono varie tipologie di risorse, non tutte le risorse ci servono sempre, quindi è chiaro che in determinati momenti ci serve solamente il cibo e il legname, magari in determinati momenti ci può servire la pietra e quindi dobbiamo recarci in un pezzo di terreno che appunto consente l'estrazione della pietra, quindi costruire la struttura adeguata, ma soprattutto dobbiamo recarci appunto in un pezzo di terreno in cui c'è la pietra, cioè non basta costruire la struttura, la struttura deve essere costruita in un terreno in cui la pietra, la risorsa delle pietre c'è. Ecco, l'espansione per la mappa, la costruzione di questi vari accampamenti solamente in punti precisi, mi ha ricordato molto Age of Mythology, se vogliamo. Il ritmo di gioco è molto lento, è molto simile ai vari Age of Empires o Empire Earth, sebbene ovviamente il videogioco non tocchi le vette di questi titoli, insomma è bene specificare questo, se voi da Spellforce 3 vi aspettate un capolavoro, ragazzi, assolutamente no. Per un videogioco molto interessante in quanto ibrido, ecco, è un videogioco che non eccelle come gioco di ruolo isometrico e non eccelle come real time strategy, però dato che insomma porta un bell'ibrido, ecco come ibrido è molto interessante, secondo me. Ripeto, le singole sezioni non eccellono, ma dato che è un ibrido funziona molto molto bene. Una volta appunto concretizzata la gestione delle risorse, dell'accampamento, insomma aumentato il nostro terreno disponibile, quindi anche in base al terreno disponibile che noi abbiamo occupato, come vedete noi siamo segnalati in blu, abbiamo anche un tetto massimo di unità militari addestrabili che è appunto aumentato. A quel punto con le varie caserme andiamo a reclutare i vari soldati, di che ragazzi c'è la gestione dell'attacco e la gestione dell'attacco funziona in maniera molto insomma classica, ecco ci sono le unità, attacchiano insomma con la click, insomma se giocate a Starcraft o giocate a un qualsiasi altro tipologia di strategico in tempo reale, la fase di gestione dell'attacco la troverete in maniera molto classica, insomma bisogna dirlo. La fase di raccolta risorse invece è particolare, quindi credo sia stato opportuno fare questo video in cui l'andassi appunto a spiegare per appunto rendere chiaro delle meccaniche che insomma nell'anteprima giustamente mostrate in maniera fugace potevano essere fraintendibili, invece con questo video credo di aver chiarito fondamentalmente come funziona. E poi ragazzi l'assedio in sé per sé è in maniera molto classica, si attacca ripeto molto molto classica, molto tradizionale, insomma do un attimo per scontato che le basi della strategia in tempo reale le abbiate. Se non sapete invece non avete mai giocato una strategia in tempo reale, ragazzi non preoccupatevi, il gioco spiega tutto. E questo ragazzi credo che sia tutto, io spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! La prossima! Grazie a tutti Grazie a tutti